Lunga, sentiti bene? Lunga, lunga, vieni avanti, Pietro, vieni avanti, bravo, vieni avanti, guarda qui, esatto, lunga, lunga, vai, fai con la campana, vai, campana, lunga, 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 bravissimo, vai, aspetta, cos'è? Cort, 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 vai, fallo tu, cort, bravo, facciamolo con le mani, vai, cort, 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 super bravo, l'ultimo cartello, vado a fare i modi, cos'è? Vado, vado, svelto doppia, Vado adesso, vado, svelto doppia, bravo, molto bene, e lo chiamiamo anche, lo chiamiamo anche patatine, fallo tu, bravo, vai con la campana, patatine triste, Vado, 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 vado,karri, vado! Grazie a tutti.